Che fine hanno fatto i rendimenti di una volta? Oggi, per via dei tassi molto bassi, le cedole dei titoli obbligazionari più affidabili si sono, nella maggior parte dei casi, molto, molto ridotte. Detto questo, continuano ancora ad esistere nel mercato opportunità interessanti, che però, per essere colte senza incorrere in rischi troppo elevati, richiedono capacità professionali e una gestione dinamica degli strumenti selezionati. Per questo, Banco Posto a Pondi SGR, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Poste Italiane ha lanciato Banco Posta Cedola Chiara dicembre 2022, un fondo bilanciato obbligazionario in delega di gestione ad Anima SGR. Un team di professionisti esperti si dedica ogni giorno alla selezione degli investimenti per costruire un portafoglio equilibrato, dinamico e diversificato. La ricetta prevede almeno un 50% di obbligazioni governative e societarie, con una scadenza in linea con l'orizzonte di investimento di dicembre 2022 ed un massimo del 50% in fondi bilanciati, flessibili e azionari, gestiti in modo attivo. Il fondo punta controllando il rischio ad una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale predefinito di circa 5 anni e ha la distribuzione di un provento fisso e predeterminato nei primi 4 anni, oltre a uno variabile nel quinto, dandoti così la trasparenza che cercavi. Banco Posta, cedola chiara, dicembre 2022. L'investimento chiaro, che dà i suoi frutti. Il fondo è sottoscrivibile per un periodo limitato. Per maggiori informazioni vai su www.bancopostafondi.it www.bancopostafondi.it